Magia Bianca Cerchio K attraverso Marco a cura di VB, Guida Spirituale Ecco figli, voi avete udito un'entità parlarvi delle vostre limitazioni, dei vostri reali problemi, anche se a voi non sembra così, anche se a voi i problemi veri risultano essere quelli terreni. In realtà figli, questi sono i vostri reali problemi, questi sono i vostri reali dissidi interiori, questi sono i vostri reali danni, ciò che può farvi del male, ciò che può causarvi ritardo nell'avanzamento spirituale. Questi dunque sono i veri problemi e da questi l'uomo dovrebbe prestare la sua attenzione, non a quelli terreni. Quelli terreni in realtà non sono che un portato di questi. Infatti, se uno vive in sintonia col proprio karma e con se stesso, seguendo quello che vi è stato detto, allora e soltanto allora i problemi terreni saranno tutti risolti da quella meravigliosa magia che nasce dallo spirito che ha compreso, dallo spirito aperto a tutte le novità della cultura e a tutti i nuovi insegnamenti che la sapienza vi pone innanzi. Continua. Grazie. 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 Grazie.